Benvenuti o bentornati su AV Magazine. Questo è un video propedeutico al test sul TV Sony Bravia XR65A95L che ho effettuato su AV Magazine. Si tratta di un TV con pannello QD OLED di seconda generazione e vi invito a leggere il test gratuitamente sulle pagine di AV Magazine. Trovate il link qui in alto a destra oppure nella descrizione. Si tratta di un test che ho effettuato in vari momenti su tre prodotti differenti. Un modello da 55 pollici e due da 65 pollici. Le misure e i consigli di calibrazione si riferiscono al modello con taglio da 65 pollici che ho analizzato per ultimo nella bella darkroom che c'è nella sede di Sony a Milano. In tutti e tre i casi ho notato un'ottima uniformità anche alle bassissime luci, un picco di luminanza che sfiora in 1600 nit e un tempo di ritenzione molto ridotto. Ecco cosa succede dopo 40 secondi di bianco alla massima potenza su area al 3% con velocità raddoppiata. Quindi ogni secondo vale doppio. Dopo 30 secondi la ritenzione è praticamente assente. Per quanto riguarda la calibrazione il consiglio iniziale è disattivare la modalità eco, disattivare anche il sensore di illuminanza e selezionare la modalità professionale sia per segnali sdr che hdr. Con segnali a gamma dinamica standard la luminanza emessa dallo schermo è troppo bassa nella modalità professionale per un soggiorno luminoso anche con il sensore di illuminanza attivato. Per cui vi consiglio di alzare il parametro luminosità quanto volete. Le prestazioni in termini di correttezza cromatica sono già molto buone. La stragrande maggioranza di chi sceglierà questo eccellente tv non sentirà il bisogno di una calibrazione accurata. Ecco comunque quello che ho fatto io. Una premessa. Sony continua la sua strenua lotta nel sottolineare la cialtronaggine di chi ha disegnato la logica del menu e dei banchi di memoria. Giusto per un esempio, nei proiettori Sony e ovviamente anche nella stragrande maggioranza del tv i segnali con gamma dinamica standard e in hdr attivano banchi di memoria diversi in modo che l'utente più esigente possa usare diverse combinazioni di bilanciamento del bianco e di CMS alias Color Management System a seconda delle necessità. Per la precisione, nei tv Sony esistono due banchi distinti per il bilanciamento del bianco e per la calibrazione dei colori primari e secondari e si chiamano Esperto 1 ed Esperto 2. Quindi sì è possibile calibrare il tv Sony sia per segnali sdr che hdr. Peccato però che il passaggio tra i due banchi deve essere solo manuale. Non è possibile associare Esperto 1 ed Esperto 2 a segnali specifici. Se si soluziona Esperto 1 per segnali sdr questo banco verrà mantenuto anche per i segnali hdr. Sono anni che in tanti giornalisti, analisti o semplici calibratori segnaliamo questa cosa a Sony ma l'azienda non perde mai occasione per sorprenderci in senso negativo ovviamente. In ogni modo ecco i miei consigli per le impostazioni. Non garantisco ovviamente che i valori che seguono siano funzionali anche al vostro tv Sony serie A95L perché le variabili in gioco sono tante ma un tentativo comunque potete farlo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Con segnali sdr quindi con gamma dinamica standard e spazio colore REC BT709 ho impostato il tv in modo da avere circa 130 candere su metro quadrato di picco e un valore del gamma costante pari a 2.3 e non il 2.4 di fabbrica. Questo mi ha consentito di avere qualche problema in meno nei primissimi gradini di luminanza che il Sony tende un pochino ad affogare. Ho impostato la luminosità a 40, il contrasto a 99 e il gamma a meno 1. Nelle impostazioni colore ho selezionato la temperatura colore esperto 1 e ho modificato i controlli a due punti, alte luci e basse luci come segue. Nel menu regolazione del colore ho regolato rosso, magenta, blu, ciano, verde e giallo come nelle immagini. Sono piccole correzioni. Il risultato secondo me è spettacolare e il leggero ditering sulle bassissime luci anche in distanza ravvicinata è praticamente invisibile. Permane comunque la tendenza a nascondere qualche particolare sulle bassissime luci ma è davvero una inezia rispetto alle prestazioni complessive. Passiamo ai segnali HDR10. Anche in questo caso bisogna partire dalle impostazioni predefinite professionale. Se volete usare il tone mapping dinamico che comunque non mi ha entusiasmato per quanto riguarda il recupero dei dettagli sulle alte luci, per i contenuti ovviamente da Blu-ray più difficili, allora selezionate gradazione preferita o meglio lasciate gradazione preferita che è di default. Lasciate il contrasto a 90 e il gamma a 0. Se invece siete dei folli come il sottoscritto e volete vedere i contenuti con grading di riferimento a 1000 nits, togliete il tone mapping e scendete con il contrasto a 78. In queste condizioni trasformate questo TV in un monitor da riferimento assoluto per contenuti fino a 1000-1200 nits. Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco ai colori, selezionate manualmente il banco Esperto 2 e modificate i valori RGB su alte luci e basse luci come è indicato nelle immagini. Seguite anche le indicazioni che seguono per i colori primari e secondari, quindi rosso, magenta, blu, ciano, verde e giallo. Per i Dolby Vision dovremo tornarci. Il tempo che avevo a disposizione per l'analisi di questo TV non mi ha consentito di fare ulteriori approfondimenti né con i segnali Dolby Vision né con quelli HLG. Se siete arrivati fin qui, due sono le cose. O siete dei masochisti incurabili oppure questo video ha suscitato il vostro interesse. Quindi se ne volete degli altri oppure se volete suggerire qualcosa o darmi qualche consiglio usate i commenti ovviamente oppure venite a dare uno sguardo su avmagazine.it Nel frattempo buona calibrazione a tutti! Grazie! 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 Grazie!